La Corsica, isola montuosa del Mediterraneo, comprende cittadine costiere alla moda, fitte foreste e montagne rocciosi con percorsi escursionistici in un paesaggio ancora selvaggio. Il nostro viaggio inizia a Calvi, una grande cittadella medioevale che si affaccia sul porto turistico all'estremità occidentale della Baia. Qui troviamo una piccola mostra del secondo reggimento della legione straniera. La Corsica, molto frastagliata, offre alcuni grandi golfi e numerose calette più o meno accessibili. La meravigliosa riserva di Scandola, ad esempio, è raggiungibile solo via mare e pertanto decidiamo di arrivarci tramite una gita in battello appositamente organizzata. Scandola è la perla della Corsica. Creata nel 1975, questa riserva naturale protegge 900 ettari terrestri e 1000 ettari marini. La sua ruigine vulcanica e l'erosione causata dall'acqua e dal vento offrono paesaggi mozzafiato, caratterizzati da falesi escoscese, insolite conformazioni rocciose rosse e calette completamente incontaminate. Navighiamo verso Agiaccio ed incontriamo le Isole Sanguinarie, tre piccolissimi isolotti che si trovano nel golfo dove la Grande Sanguinaire ospita una torre genovese. Il nome deriva dalle colorazioni che assumono il tramonto che variano dall'arancio al rosso più cupo. La città di Agiaccio è la parte centrale dell'isola. Questa regione è molto conosciuta da turisti, soprattutto per le sue innumerevoli spiagge di rara bellezza, ma anche per la storia della città di Agiaccio sotto il regno di Napoleone. Decidiamo di raggiungere Saint-Florain attraverso il deserto delle Agriate, una vasta zona naturale spopolata e incontaminata. Al porto prendiamo un vero e proprio taxi d'acqua e ci dirigiamo a Saleccia, una delle spiagge più belle e più selvagge della Corsica. La spiaggia della Saleccia è una spiaggia dai colori caraibici, azzurro intangibile con sfumatura e ghiaccio in tutte le gradazioni, sino al blu profondo e bianco talco della sabbia. Un quadro verde smeraldo che incornicia una situazione perfetta e davvero paradisiaca. Ma la Corsica offre anche altre spiagge, perle di rara bellezza come Bodri, dove per gli appassionati si possono praticare anche molti sport come il parapendio. E' ora di tornare, ma di certo non dimenticheremo lo spettacolo che la natura incontaminata ci ha regalato in questo nostro breve viaggio. Grazie per la visione!